allora che cosa vuol dire giocare bene giocare bene potremmo riassumerlo in una maniera molto semplice attraverso il concetto di trovare un equilibrio tra le due fasi che vedono impegnate una squadra di calcio ovvero la fase difensiva e la fase offensiva quando un allenatore e i giocatori riescono a trovare il giusto equilibrio riuscendo a costruire bene la prima e costruire bene la seconda allora a quel punto possiamo dire che una squadra gioca bene al calcio naturalmente è una cosa semplicistica è un riassunto molto banale rispetto a tutte le sfaccettature che questo sport è meraviglioso che tanto amiamo ci consegna però effettivamente poi alla fine stringi stringi quello che dobbiamo vedere è quanti gol si fanno come li si fa quanti gol si prendono e come li si prendono alla fine diciamo ecco uno dei duelli interessanti nella partita che vivremo domani sera tra il milano e la juventus è sicuramente questo cioè quello tra una squadra la nostra che ha una struttura offensiva molto importante e una squadra invece quella della juventus che ha per contro una difesa migliore rispetto alla nostra una fase difensiva migliore rispetto alla nostra numeri alla mano ma che ancora non ha trovato la sua piena identità in questa nuova gestione di allegri diciamo il secondo il secondo allegri della juventus credo che la partita di domani sarà una partita molto tesa perché la posta in palio è alta tra poco vedremo anche la classifica e noi arriviamo da quello che è accaduto con con lo spezia lunedì e arriviamo anche come dire circondati da tutte le questioni di mercato dalle questioni degli infortuni però alcune cose si muovono in senso positivo e già ad esempio per domani avremo la possibilità di recuperare tre giocatori che non abbiamo avuto nelle ultime partite sto parlando di calabria che ha giocato qualche minuto con lo spezia e che domani battaglia per una maglia titolare con l'ottimo florenzi delle ultime settimane romagnoli che torna a disposizione e giocherà in difesa a fianco di calulu e poi abbiamo benasser la sua nazionale è stata eliminata dalla coppa d'africa benasser torna a disposizione sarà sicuramente in panchina qualcuno aveva anche come dire ipotizzato un utilizzo dal primo minuto ma credo che la cosa sia un po complicata il ballottaggio lì in mezzo probabilmente lo vincere a krunic al fianco di tonale poi per il resto la formazione dovrebbe essere quella teo a sinistra in attacco lea obra in diaz sane mecher e in avanti ibraimovic sulla questione ibraimovic abbiamo parlato ieri nel corso della puntata nel corso della diretta delle 13 oggi faremo un altro mini approfondimento riferendoci a una partita in particolare della juventus dove un certo tipo di azione in fase di non possesso da parte degli attaccanti ha portato tanti 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 problemi alla squadra bianconera intanto però secondo me è giusto capire come le due squadre arrivano a questo appuntamento ed ecco perché vi faccio vedere intanto la classifica che come vedete ci vede al secondo posto a 48 punti la juventus è quinta ne ha 41 un dato interessante è sicuramente quello della difesa che vi dicevo la juventus vince dal punto di vista di fase difensiva rispetto a noi perché ha subito 21 gol noi ne abbiamo subiti 25 quello dei qualche golletto di troppo subito è un nostro problema effettivamente l'abbiamo sottolineato diverse volte adesso permettetemi però di allargare un pochino lo schermo perché altrimenti qui facciamo pubblicità e non si può per quanto insomma non credo che non credo che vengano ad arrestarmi ecco nel caso portatemi la lancia in galera allora dicevamo discorso difensivo è questo la juventus vedete ha però una differenza netta rispetto a noi e sono quei 13 gol in meno fatti la juve ha un problema nella fase offensiva lo sta sistemando faticosamente con morata che sembra nelle ultime partite un pochino più dentro anche se sappiamo benissimo che pur essendo un giocatore dotato di grande tecnica non è un bomber non lo è mai stato e presumibilmente mai lo sarà però sta ritrovando un dibala in condizione e questo per noi può essere un grande problema perché perché dibala è un giocatore difficile da marcare è un giocatore che da solo può come dire dare un senso a tutta l'azione offensiva della sua squadra della juventus e per noi come dicevamo anche ieri gestire quella fase di transizione nella zona tra centrocampo e la difesa è difficile lo è per tutti ma in particolar modo quando ti trovi di fronte un attaccante che si muove e danza molto bene in quella fase di raccordo tra il centrocampo e la fase offensiva la juventus ha dei problemi tant'è che non sappiamo ancora come giocherà domani perché non sappiamo se giocherà col 4 4 2 non sappiamo se giocherà col 4 2 3 1 nel caso dovesse fare 4 2 3 1 adesso ne parliamo vediamo un attimino una cosa interessante la condizione di forma perché nelle ultime 5 partite la juventus ha fatto 13 punti come l'inter noi ne abbiamo fatti 9 allargando un po il campo andiamo a vedere nelle ultime 15 partite la juventus ha fatto un punto più di noi ha fatto 30 punti noi ne abbiamo fatti 29 questo è un altro dei motivi che rendono la partita di domani estremamente importante ed estremamente delicata perché la classifica come vedete nel suo totale ci vede ancora con 7 punti di vantaggio ma è chiaro che nella malauguratissima ipotesi che domani la juventus dovesse venire a vincere la casa nostra la classifica si accorcerebbe in modo marcato perché la juventus andrebbe a 44 quel punto si porterebbe a meno 4 poi c'è da vedere c'è la partita tra la razza e l'atalanta c'è da vedere il napoli che cosa fa insomma tutto quel gruppo di squadre lì senza contare che poi l'inter che tra l'altro gioca con il venezia e in questo meraviglioso mondo italico dove a san siro si fanno giocare due partite di fila tra supercoppa e coppa italia due partite di campionato una dopo l'altra col terreno in quelle condizioni vedremo che cosa farà l'inter comunque questa è la situazione tra l'altro la juventus vi faccio vedere un'altra cosa nelle ultime partite come potete vedere ha c'ero qua ha battuto la sandoria 4 1 in coppa italia vabbè in una partita diciamo con tante assenze per la doria e anche la situazione dell'allenatore esonerato eccetera eccetera ha battuto 2 a 0 l'udinese sicuramente senza fare un'enorme prestazione ma comunque ha vinto ha perso con l'inter supercoppa nell'ultimo minuto dei supplementari e poi arrivava dalla vittoria rocambolesca di roma ed è questa una partita che adesso prendiamo un attimo in esame prima ha raggiunto pari col napoli ha battuto il cagliari 2 a 0 comunque vedete insomma che l'anomalia è sicuramente la partita con napo con con la roma per quello che riguarda il campionato sia per il numero di gol fatti sia per il numero di gol subiti allora dicevo la partita con la roma perché dobbiamo prendere in considerazione quella gara perché la roma e la juventus in quella partita si sono schierate allo stesso modo si sono schierate a specchio 4 2 3 1 ecco perché dicevo che sarà importante capire come la juventus giocherà domani perché perché nel caso in cui allegri dovesse decidere di giocare col 4 2 3 1 la partita potrebbe andare molto o per meglio dire ancora di più su quelli che sono i duelli individuali che nel calcio moderno stanno ritornando prepotentemente alla ribalta e che sono un elemento importante per stabilire poi l'andamento della partita da un lato e dall'altro anche col 4 4 2 comunque ci sarebbero dei duelli perché perché parliamo dei due esterni contro i nostri due terzini e i nostri esterni attacco perché parliamo dei due di centrocampo loro contro i due di centrocampo nostri quindi in ogni caso è una partita che vivrà di duelli è una partita dove il nostro centrocampo dovrà fare molto bene perché ci sarà non soltanto da combattere dal punto di vista fisico con giocatori come ad esempio locatelli che comunque in un centrocampo non sicuramente di grande qualità e non sicuramente il primo livello sta facendo una buona stagione e a lei che lo tiene molto in considerazione tant'è che gioca praticamente sempre ma noi i nostri centrocampisti dovranno anche avere un occhio sui due giocatori più pericolosi dell'eventus che sono quadrado vedremo poi dove giocherà perché nelle ultime ore si era c'era rimasto un po sospesa la questione di quadrado esterno di difesa o quadrado esterno centrocampo e poi naturalmente paolo di bala quindi lì dovrà esserci un un ottimo un ottimo lavoro di movimenti da parte di cruni cettonali la questione di romagnoli contro di bala è una questione dedicata perché l'ha già fregato in qualche circostanza romagnoli sappiamo che è un giocatore che non ha come dire nella nella reazione immediata la sua arma migliore e quindi lì bisognerà stare molto molto attenti allora dicevo la parita di roma parita di roma due squadre a specchio 4 2 3 1 4 2 3 1 che cosa ha infastidito molto la juventus che in quella partita al di là del risultato che comunque è gonfiato da tante situazioni dagli errori dall'orrori difensivi della roma da altre cose la cosa che ha dato tanto 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 fastidio alla juventus in quella partita è stata la pressione del reparto offensivo della roma soprattutto di abraham allora domani giocheranno chiellini e delict che non sono sicuramente due giocatori dalla velocità in uscita palla con velocità in uscita palla cioè sono due giocatori abbastanza macchinosi forti nei duelli difficili da superare tutto quello che volete però abbastanza macchinosi dal punto di vista dell'uscita palla sia la juventus come in quella partita si dà molto fastidio in fase prima costruzione quindi se si fa fatica a permettere ai giocatori della juve di far arrivare il pallone dalla difesa a centrocampo allora a quel punto noi possiamo avere un grande vantaggio possiamo gestire la partita per farlo però servirebbe un centra avanti con questo tipo di caratteristiche ecco perché se io diciamo leggendo così la situazione se io mi immagino la partita di domani me la immagino con questo tipo di impostazione cioè con la necessità da parte mia di avere un attaccante molto fastidioso in prima costruzione juventina questo attaccante ovviamente non può essere ibraimovic questo attaccante non può essere questo attaccante può essere solo ante rebic ora io non conosco le condizioni fisiche di rebic quindi può essere anche che non sia in grado ancora di iniziare la partita e che non sia in grado di fare questo tipo di lavoro però se lo avessi a disposizione e per la gara di domani dovessi scegliere un attaccante andrei a rivedermi quella partita e andrei a fare quel tipo di lavoro con ante rebic questa è la mia idea poi ovviamente è un parere così assolutamente personale e anzi mi dite mi direte voi che cosa ne pensate però io devo dare fastidio a questa squadra devo dare fastidio alla juventus devo impedire siccome poi la partita con la roma ha mostrato che se si fa questo tipo di gioco sono abbastanza in confusione dal punto di vista non solo della costruzione ma anche dal punto di vista della disposizione in campo avrete visto per chi ha seguito quella gara quanta quanta difficoltà a trovare le posizioni e le distanze da parte della juventus sul pressing della roma vediamo come giocherà la juve naturalmente poi anche nel corso di quella partita hanno cambiato sistema 4 2 3 1 poi sono passati al 4 4 2 insomma hanno cercato anche di trovare con una certa continuità di bala perché sanno che lì nascono le cose buone ecco quindi noi dovremo concentrarci soprattutto lì perché poi da un punto di vista di interprete in senso assoluto non siamo inferiori alla juventus abbiamo un potenziale offensivo notevole dobbiamo giocare una partita di grande attenzione per tutti e 90 fischie minuti per tutti i 90 fischie minuti con la testa dentro ma credo insomma che la partita di domani non abbia come come dicono gli allenatori sono partite che si preparano dal sole però dobbiamo riuscire a fare questa cosa concentrati sul pezzo attenti ai loro movimenti cercando di mandarli in confusione più possibile per fare questa cosa servirebbe questo tipo di azione all'inizio dell'azione loro però insomma vediamo domani vediamo anche che partita ha in mente piori che cosa si aspetta dalla juventus e che cosa si aspetta dai ragazzi vi auguro un buon sabato noi ci sentiamo domani sera nel post partita di mina juventus forza mina non possiamo fallire la partita di domani ciao a tutti